Radio Radicale, il 29 gennaio del 1964 si aprivano a Innsbruck i giochi olimpici invernali. Si trattava di un appuntamento sportivo che oggi faremo fatica a riconoscere come delle Olimpiadi perché ci sono state tante polemiche, tanti episodi brutti ma anche molto nobili che sono ricordati nello sport italiano che però hanno lasciato una traccia sia per le polemiche sia perché furono oggetto anche di un grosso scontro politico. Furono le prime Olimpiadi dopo l'erezione del muro di Berlino nell'agosto del 1961 e soprattutto che videro la vittoria schiacciante degli atleti dell'Unione Sovietica. Quando parlo delle Olimpiadi di Innsbruck la prima cosa che mi viene in mente è il fatto che furono delle Olimpiadi con un'organizzazione molto difficile perché mancava la neve. Nel senso che gli organizzatori ebbero dei grossi problemi perché c'era poca neve e anche ci furono parecchi incidenti, due di questi credo molto tragici, ci furono anche due morti. Allora io ne volevo parlare col professor Romano Ferrari Zumbini docente di storia del diritto al LUIS e presidente del centro studi Paracelsus per parlare di questo evento. Allora perché noi oggi dobbiamo parlare e possiamo parlare delle Olimpiadi invernali di Innsbruck? Che cosa ci riporta alla mente questo evento sportivo sul quale credo lei abbia scritto anche un romanzo dal titolo Septem Verba che è uscito nel periodo della pandemia? Buonasera. Lei fa bene a ricordare quelle Olimpiadi che videro anche se non se ne parlò molto la fuga verso l'Ovest di alcuni atleti dell'Est cioè atleti della DDR che era all'epoca la Germania dell'Est atleti ungheresi e atleti cegoslovacchi approfittarono del villaggio olimpico per nottetempo allontanarsi dalle loro delegazioni e confluire nell'Ovest. Quindi è stata una vicenda ricca in tessuta di varie tonalità quella di quelle Olimpiadi che si svolsero sino al 9 febbraio. Allora sono le prime Olimpiadi che si svolsero dopo la costruzione del muro. Il muro fu costruito il 13 agosto 1961 viene chiamato Muro di Berlino ma non riguardava solo Berlino ma riguardava centinaia e centinaia e centinaia di chilometri all'interno della Germania e quindi nacquero, si separarono ancor più fortemente di quanto non lo fossero prima, Germania Ovest, Germania Est. La Germania Est era praticamente la zona d'occupazione sovietica alla fine della Seconda Guerra Mondiale. La Germania Ovest era la zona d'occupazione degli alleati alla fine della Seconda Guerra Mondiale. fu un tentativo disperato del comunismo di arginare quell'esodo di decine e centinaia di persone che quotidianamente lasciavano l'Est, Berlino Est o la Germania Est per andare a Berlino Ovest o in Germania Ovest. Perché distingo fra Berlino e Germania? Perché Berlino era un'isola all'interno della Germania Est. Era una situazione molto contorta. Comunque il muro ha rappresentato un innalzamento di tensione all'interno della Guerra Fredda per cui se ancora si faceva finta che i rapporti potessero essere amichevoli fra le potenze alleate che avevano vinto la Seconda Guerra Mondiale con la costruzione del muro chiaramente c'è stata un'attenzione fortissima fra i due blocchi. Non a caso di lì a poco avrebbe avuto luogo la cosiddetta crisi di Cuba ma quella è un'altra vicenda. Andiamo all'aspetto sportivo che è quello più simpatico. Fu, come lei giustamente ha detto, un trionfo per gli atleti dell'Unione Sovietica era la denominazione dell'ex impero zarista ed è qualcosa che in larga parte si può identificare con l'odierna Russia ma era molto più ampio dell'odierna Russia. Ad esempio nell'Unione Sovietica dell'Unione Sovietica faceva parte l'Ucraina tanto per rendere più attuale la comprensione del problema. Bene, gli atleti sovietici vinsero la bellezza di 11 medaglie d'oro. La seconda stata nell'ordine del medagliere era l'Austria con appena 4 medaglie. Quindi puoi vedere quanto potente fu la manifestazione di supremazia dei sovietici. Seconda fu l'Austria con 4 e le altre, Francia, Norvegia, Finlandia, con soltanto 3. Lei pensi che un atleta, una pattinatrice russa da sola vinse 4 medaglie d'oro e quindi lo stesso numero di medaglie d'oro vinte dall'intera Austria. Ecco quindi che c'era quindi questo doppio livello da un lato sportivo puro dall'altro c'era un antagonismo. Non a caso negli anni 70 e 80 la Germania Est schierò nelle Olimpiadi di sempre atleti donne nei confronti delle quali si avevano perplessità circa, ormoni assunti in maniera impropria, eccetera. Insomma, sì, da parte del regime sovietico si annetteva grande importanza all'esito perché poteva avere un riscontro propagandistico non da poco. L'Italia non si classificò bene. L'Italia vinse in tutto tre medaglie di cui una d'argento e due di bronzo e quindi non fu una grande prova. Però il bobbista Eugenio Monti fu autore di un gesto molto bello che lei diceva appunto aspetti tragici e aspetti molto di grande valore. Ebbene, il bobbista 36enne Monti che era la fine della carriera e che non avrebbe mai vinto nessuna esattamente medaglia d'oro. Allora, era 36 anni. 36 anni sembrava che fosse la sua ultima Olimpiade. Egli era stato numerose volte campione del mondo ma non aveva mai vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Quindi si pensava sono le sue ultime Olimpiadi. L'ultima manche della discesa di Bobba II e l'equipaggio inglese si ritrova senza un bullone. Allora, egli, cavallerescamente, con grande generosità, fornisce agli inglesi quel bullone che permette a loro di scendere e guarda caso, vincono. Egli fu molto criticato dalla stampa sportiva italiana perché dissero tu sei stato stupido perché hai fatto vincere gli inglesi. Eugenio Monti rispose in maniera molto intelligente e va completamente a suo onore. Lui disse signori cari, gli inglesi hanno vinto non per il mio bullone, hanno vinto perché erano i più veloci di tutti. Punto. e quindi è stato effettivamente ha concretizzato con questo gesto quello che si suole definire il vero e proprio spirito olimpico. Ci sono stati anche aspetti tragici come lei giustamente ha messo in evidenza e dimostra come quella fosse un'epoca pionieristica, un'epoca non iper specializzata come adesso. Lei pensi che lo slittino fu una delle due specialità che vide un morto ed era un atleta che aveva la bellezza di 50 anni. Ora, io credo che oggi sarebbe inconcepibile pensare che con tutto il rispetto per chi ha 50 anni ci mancherebbe possa partecipare alle Olimpiadi per di più una gara di slittino. Ecco quindi che stupisce che l'abbiano fatto partecipare. L'altro morto è stato in discesa libera. Era un ragazzo australiano di 20 anni e dalle cronache dei giornali che rispettano ovviamente il lutto però traspare tra le righe che egli era completamente inappropriato per la difficoltà della pista. Quindi non era colpa della pista perché non erano state dotate misure di sicurezza adeguate e che lui non era all'altezza di svolgere una gara di discesa libera. Ecco quindi che era un mondo appunto di 60 anni fa che è molto cambiato rispetto ad oggi. Ci furono molte interferenze politiche e guardi un po' l'atteggiamento della polizia. Dunque l'Austria dal 1955 e quindi da un numero di anni non notevole era uno stato indipendente perché per dieci anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale era stata sotto un'amministrazione controllata dalle potenze vincitrici. Le varie regioni dell'Austria erano come quelle della Germania ripartite in zone di occupazione sovietica, americana, inglese e francese e quindi solo da relativamente pochi anni erano stato autonomo. Ebbene, ci furono distribuiti volantini antisovietici nelle tribune fra gli spettatori e la polizia li sequestrò immediatamente. Furono contestualmente divulgati dei volantini anti-italiani e la polizia non li sequestrò. Allora, il 1961 è stato forse l'anno... Il 1964 è stato... Anti-italiani da parte di... Diciamo fuoriusciti, altatellini... Da parte di attivisti sud-tirolesi che chiedevano il ritorno al Tirolo e quindi all'Austria perché loro dicevano scusate, i punti di Wilson nella Prima Guerra Mondiale sostenevano il principio di nazionalità. Il principio di nazionalità fa sì che noi che abbiamo cognomi come Untertitel, Malknecht, eccetera dobbiamo essere... Noi non siamo italiani vogliamo tornare. Ebbene, era in corso in quelle settimane un processo a Milano molto delicato su cui la stampa italiana si è soffermata ma non troppo perché alcuni di questi attivisti erano stati fermati per attentati a Tralicci ma qualcuno, uno in particolare ne uscì tragicamente perché fu ucciso in carcere. Morì in carcere e ci sono forti sospetti l'allora segretario della Stitule Fox Partai Magniago lo disse chiedetemi le prove io vi fornisco le prove che è stato assassinato in carcere. Ecco quindi... Dai servizi segreti? Non lo so lui non lo so e non mi permetto non avendo la documentazione non mi permetto di dirlo. So che Magniago Magniago fece questa affermazione io sono pronto a dichiarare mi venga chiesto io sono pronto a esibire le prove che ho e nessuno gli chiese mai di esibire le prove. Insomma ebbene la polizia il ministero degli interni e la polizia a Innsbruck non sequestrò quei volantini anti italiani che circolavano all'interno della popolazione. Ecco quindi che c'era una vicenda quella di quelle Olimpiadi dove si intesseva politica con sport in maniera molto intensa. Era un mondo nel quale nella parata di apertura le varie delegazioni marciavano. Non è che entravano nello stadio olimpico in maniera rilassata. Venivano... proprio con uno spirito direi non vorrei essere equivocato con l'aggettivo paramilitare non voglio essere equivocato perché paramilitare evoca azioni sovversive no no proprio si marciava con una rigidità che era figlia di un'altra epoca. Nell'Olimpiadi di Berlino del 36. Ma era così anche nelle Olimpiadi a Roma. Cioè quelle del 64 furono le ultime Olimpiadi dove con austerità si entrava perché c'era l'orgoglio di rappresentare la propria nazione e c'era l'orgoglio di vincere una medaglia per la propria nazione. Non c'era come dire una tendenza si va lì per divertirsi e io sì lotto per la mia bandiera però la dichiarazione di redditi non la faccio nel mio Stato ma la faccio altrove. Ecco c'era ancora una identità per cui si era orgogliosi. Lei pensi a proposito di questo clima da guerra fredda che c'era in quelle Olimpiadi che volero evitare l'incontro fra atleti dei due blocchi blocco occidentale blocco orientale e lo fecero in maniera elegante perché crearono all'interno del villaggio olimpico diversi ristoranti e lo fecero per venire incontro alle esigenze degli atleti. Quindi c'era il ristorante alpino ovvero sia per gli atleti svizzeri, austriaci, tedeschi che mangiavano in una certa maniera Kraut, Wurstel, eccetera. Poi c'era il ristorante latino per atleti italiani, francesi che mangiavano in un'altra maniera. C'era l'apartheid gastronomico? Di fatto sì, suona stupisce ma era così. E poi c'era il terzo ristorante per gli atleti slavi e asiatici. Come a dire, il blocco dell'est non deve incontrarsi con il blocco dell'ovest. L'hanno fatto, bisogna dire in maniera elegante. Tuttavia, come sempre, la gioventù prevale su tutti quanti i canoni, tutti quanti le limitazioni che la politica cerca di imporre, la sera si incontravano e ballavano insieme. Ma era tutto disciplinato perché loro potevano ballare dalle otto e mezza alle dieci. Dopo le dieci tutti andanno a letto e ballavano addirittura il twist che era qualcosa di notevolmente ardito per l'epoca. Ecco quindi che ci fu il momento d'incontro e al termine di questi momenti d'incontro nella notte ebbero luogo quelle fughe di atleti dell'est DDR come abbiamo visto prima DDR, Ungheria e Cecoslovacchia che non fu molto pubblicizzato dai giornali occidentali. Allora la notizia è sicura il fatto che non venne pubblicizzato probabilmente è stato in flusso dell'Unione Sovietica che ha primuto sui governi occidentali affinché la stampa occidentale non divulgasse la notizia perché in realtà al blocco sovietico della fuga di 7, 8, 9 i ragazzi non era importante niente che non volevano lo smacco che si divulgasse la notizia che il desiderio era di allontanarsi quindi hanno accettato la fuga ma hanno chiesto che non venisse divulgata ed effettivamente questo è anche questo è un segno dei tempi di allora oggi sarebbe inconcepibile che un governo chieda a un governo neanche alleato perché era un governo con il quale c'era una contrapposizione forte di al governo non alleato di chiedere di intervenire sulla stampa di quel paese oggi sarebbe inconcepibile c'era andato anche lo sciacchi erano gli ospiti diciamo d'onore di quella di quelle olimpiadi e se questo diciamo questo frammento della storia di quelle olimpiadi è entrato nel suo libro guardi gli ospiti principale fu Reza Palevi lo sciacchi di Persia tra l'altro ci furono anche delle manifestazioni contro lo sciac ci fu una manifestazione contro lo sciac che sarebbe stato deposto 15 anni dopo da parte della la rivoluzione islamica ma quella è una vicenda diversa di 15 anni dopo arrivò con Faradiba la quale tentò di imparare a sciare ci sono delle foto che girano di quei giorni di quei giorni sì e vennero anche i reali d'Olanda e venne anche una scolaresca e venne anche una scolaresca da un particolare collegio di Feldkir ed è e sono i protagonisti del mio romanzo ecco quindi questo romanzo che io ho scritto non è un romanzo storico è un romanzo a sfondo storico sono due cose molto diverse perché il romanzo storico è un romanzo che si colloca in una certa epoca dove tutto è inventato il romanzo a sfondo storico è un romanzo che per la parte esterna riferisce minuziosamente gli avvenimenti mi permette a fare un paragone irriguardoso ma solo per rendere idea i promessi sposi sono un romanzo a sfondo storico perché la peste e l'occupazione spagnola erano un dato di fatto reale poi che Fermo e Lucia o Renzo e Lucia che dir si voglia donna bondi o sino personaggi di fantasia è un altro discorso ecco quindi non è un romanzo storico allora è un racconto ambientato in un collegio particolare di Feldkirch una città a un centinaio di chilometri da Innsbruck che è al confine fra Austria Liechtenstein anche Svizzera è affacciata sul lago di Costanza ed è un collegio particolare dove si raccontano delle storie di un anno scolastico particolare è l'anno scolastico che coincide con l'ultimo anno scolastico quella di una scuola di gesuiti quindi una scuola fortemente improntata a categorie cattoliche che fu l'ultimo anno prima della fine del concilio vaticano e quindi prima della fine del momento di svolta di quel concilio nel quale la Chiesa ha rinunciato ad avere quella posizione millenaria di verticalità che aveva sempre avuto per passare ad una posizione di orizzontalità vede nella società sono sempre esistite due forze una forza centrifuga e una forza centripeta ebbene la forza centrifuga è rappresentata nella società contemporanea ed è proprio la prima pagina del racconto dalla figura di Sartre lo sa che Sartre proprio la prima pagina parla del fatto che per 15 giorni di distanza Hitler e Sartre non si sono incontrati sembra strano ma sono due personaggi che hanno profondamente influenzato e influenzano tuttora il ventunesimo secolo Hitler perché viene evocato continuamente anche nella politica contemporanea in Germania c'è questa ossessione della riduzione ad Hitlerum per cui ogni volta che c'è una forza politica che non è gradita al governo si imputa a quella forza politica di avere connotati filo nazisti e quindi incide profondamente poi francamente il nome del cane di Hitler è più famoso del nome del ministro degli esseri tedesco io credo che blondi lo conoscano tutti mentre il nome del ministro degli esseri non so quanti lo conoscono l'altro personaggio è Sartre che a rovine macerie ancora fumanti di Berlino fu invitato a Berlino a vedere una mostra ad assistere alla giornata del libero libro che doveva riscattare il rogo dei libri del 33 ebbene Sartre è stato un intellettuale che ha profondamente inciso e che incide tuttora perché lui è stato il teorico della ribellione a tutto allora lui è la forza centrifuga che ha avuto successo per cui la ribellione è la categoria sulla quale intorno alla quale vive l'Occidente attualmente bisogna ribellarsi a tutto poi a che cosa non si sa però bisogna ribellarsi perché è un momento di libertà ebbene a fronte di questa forza centrifuga la Chiesa ha sempre rappresentato una forza centrifuga una forza che aveva detto io a te credente dico cosa è giusto cosa è sbagliato non è un discorso che io faccio rivolto ai credenti è proprio un'osservazione globale della società ebbene questo antagonismo è venuto meno col Concilio Vaticano ecco quindi perché è ambientato in quell'anno perché si vuole far vedere come era il mondo prima del Concilio Vaticano quando l'Occidente aveva certe categorie e si antevedono alcuni problemi che sarebbero emersi successivamente nel ventunesimo secolo quindi è un gioco di prospettive all'interno di questo romanzo ad esempio c'è uno scolaro che chiede all'insegnante scusi che differenza c'è fra intellettuale e maestro di pensiero e allora il docente dice maestro di pensiero è qualcuno che si autoattribuisce una legittimazione a fare cose senza assumersi la responsabilità degli effetti delle cose che dice ecco quindi che emergono tante riflessioni per cui leggendo quel romanzo si vede com'era quel mondo che era un mondo serio ma Bonario Gioquerellone allo stesso momento perché serio non significa serioso era un collegio che aveva le sue regole ma aveva anche di sua mente di svago è un romanzo nel quale si intrecciano varie vicende anche sentimentali erano ragazzi di 16-17 anni innamorati della stessa ragazza ovviamente le solite vicende che a quell'età con quelle tempeste sentimentali tutti quanti conoscono ebbene emerge come quella società avesse dei gangheri nel momento in cui la società è passata al superamento delle categorie ed ha voluto togliere i gangheri il ganghero che cos'è? il cardine di una porta il ganghero è quel punto di resistenza che permette alla porta di stare in piedi alla porta di aprirsi e di chiudersi ed è quel punto di resistenza il giavellotto perché vola perché un atleta corre e poi fa stop e in quel momento parte l'attrezzo perché il salto con l'asta si vola perché dopo la rincorsa c'è il momento di resistenza la chiesa ha sempre rappresentato il momento di resistenza che ha permesso alla società di avere i gangheri nel momento in cui la chiesa non ha più voluto essere ganghero cardine della società la società si è uso questa espressione toscana sgangherata ecco quindi emerge da questo romanzo il problema di una società nella quale tutti vogliono essere diversi l'essere diverso diventa quindi normale ciascuno vuole essere minoranza per tutelare meglio le proprie esigenze perché noi siamo in una democrazia nella quale non si cerca di essere maggioranza si cerca di essere minoranza da tutelare il che pone qualche domanda perché se tutti vogliono essere diversi l'essere diverso è normale ciascuno vuole essere minoranza per tutelare meglio il suo appartenere alla maggioranza di quelli che sono diversi viene a finire che nessuno è normale nel momento in cui non si può essere normali ma tutti vogliono essere intesi come normali nel momento in cui non sono normali viene indistintamente tutto quanto dissolto ecco quindi che c'è un problema di paradigma c'è un problema di parametro c'è un problema di una società che ha difficoltà a giudicare lei pensi ad esempio i cinghiali che passeggiano nella periferia di Roma davanti alle scuole non si sa se è più importante la vita del cinghiale o la vita dello scolaro nel momento in cui di o non voglia succedesse la tragedia che un cinghiale carica un bambino poi si si porrà il problema se sia più importante la vita del cinghiale o la vita del bambino quindi una società che non sa più giudicare e ora non le parlo nulla però la libertà non è assenza di vincoli la libertà è la capacità di creare spazi di libertà all'interno di una cornice nel momento in cui si toglie la cornice non c'è più libertà c'è solo vuoto ecco quello che emerge dal romanzo l'ultima cosa questo Innsbruck il 64 quanto è lontano da quello che poi è successo quattro anni dopo moltissimo moltissimo lontano perché il 68 Messico dunque il 68 Grenoble c'è stata la prima medaglia d'oro di Eugenio Monti perché Eugenio Monti a 36 anni lo si dava per uomo tramontato alla sua ultima olimpiade e per l'ennesima volta non aveva vinto le olimpiadi a Grenoble nel 68 riesce a partecipare da quarantenne lo si dava ormai il vecchietto e è riuscito a vincere la medaglia d'oro quindi ha avuto questa grande soddisfazione anche se poi dovette morire tragicamente nel 2003 ma questo è un aspetto meglio non menzionare perché è molto triste comunque ebbe questa soddisfazione a Grenoble Messico Messico 68 olimpiade estive ecco il mondo è cambiato il mondo è cambiato ci furono la grande protesta dei corridori di 200 metri di colore con il pugno chiuso con il guanto nero all'interno del pugno chiuso e quindi è un mondo che era cambiato quindi quegli olimpiadi le prime dopo il muro furono anche le prime dove ancora si pensava ai flirt e quelli erano il vero argomento di interesse dei giornalisti dal 68 il pugno chiuso dei 200 metristi di colore il 72 la tragedia a Monaco della vicenda israelo-palestinese con l'attentato per cui morirono diversi atleti della delegazione israeliana poi andiamo negli anni successivi gli anni dei boicottaggi delle olimpiadi per cui non si può andare a Mosca non si può andare a Los Angeles perché c'è la guerra fredda e quindi si voleva contestare l'Unione Sovietica l'aggressione in Afghanistan quattro anni dopo l'Unione Sovietica non voleva andare gli atleti del blocco dell'est alle olimpiadi americane per ritorsione insomma quelle del 64 furono le prime dopo il muro ma anche le ultime come dire senza troppe incidenze di fattori esterni bene io la ringrazio per questo affresco che lei ci ha fatto delle olimpiadi del 1964 a Eastbrook che oggi ci appaiono così lontani al punto da sembrarci quasi irreali grazie grazie a lei grazie a tutti